Chiari concittadini buona giornata, oggi è il 18 dicembre e sono le ore 11. Sono qui per verificare questo business che mi interessa perché vorrei fare un investimento anche io su queste piste di pattinaggio e mi è stato detto che ogni ora, qui si paga 7 euro, ogni ora c'è un flusso di dai 100 alle 120 persone unità di fruizione. Sono venuto a verificare, sono 5 quindi ne mancano 95-115, ma voglio vedere se è un affare che si può fare.